È un mercato in forte crescita, quello dei multispazio, forse anche perché toccan target trasversale. Veicoli ideali per gli sportivi, che in casa Renault esternamente ricordano i mezzi commerciali, ma le rifiniture sono di alta qualità. Sono ampi, dotati di porte laterali scorrevoli dove si può caricare di tutto, capaci di percorrere ogni tipo di terreno. Se parliamo di multispazio dobbiamo parlare di Kangoo. Kangoo è alla terza generazione, un successo europeo davvero importante e con questo nuovo multispazio noi abbiamo fatto veramente dei passi avanti per rendere questo veicolo che deriva dalla furgonetta un veicolo a privati a tutti gli effetti. È un'autovettura carica di ingegno, facile da vivere e adatta a tutte le situazioni familiari. È un prodotto che amplia il segmento con un design elegante e atletico, con una funzionalità da multispazio, con un grande bagagliaio, tanta modularità e sicurezza al massimo livello. I prezzi partono da 25 mila euro, è già ordinabile e arriverà nelle concessionarie a luglio. Nel 2022 è previsto inoltre l'arrivo di nuovo Kangoo E-Tech 100% Electric, che come la versione termica sarà prodotto a Mobeuge, che è un polo di eccellenza nel settore elettrico. Noi vogliamo tornare sul podio in Europa, perché questo veicolo ha veramente tanto da offrire. Confermo che nel 2022 arriverà la versione electric, 265 chilometri di autonomia e tempi di ricarica davvero brevi. Nuovo Kangoo è ideale per le famiglie, ma anche commercianti, enti locali, amministrazioni e associazioni. Nuovo Traffic Passenger è pensato invece soprattutto per le aziende o piccoli enti che si occupano del trasporto persone, mentre il nuovo Traffic Space Class è stato pensato ad hoc per il trasporto dei clienti VIP. Risponde infatti alle attese di conducenti e passeggeri più esigenti alla ricerca di versatilità, spazio e comfort esclusivo. La differenza tra il passenger è che trasporti 9 persone, ma il Space Class è praticamente una meeting room, una sala di riunione su quattro ruote. C'è il tavolino, c'è tutto il comfort per poter avviare una riunione anche in movimento. Per quanto riguarda gli ordini di entrambi i modelli, sono aperti dal 20 maggio, mentre la commercializzazione è prevista a giugno. I prezzi di listino partono da 35.600 euro per Traffic Passenger e 49.150 euro per Traffic Space Class.